Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo quarto V-blog su Vampire de Masquerade. Ho visto che ci sono veramente tante domande, quindi purtroppo dovrò tarellare, non potrò dare risposte troppo esaustive, se no non me la cavo più. Quindi, prima domanda, anzi non è una domanda, ma il primo che ha postato un commento, che è Nedaccio Ciodane, vorrebbe giocare a Vampire de Masquerade e sta cercando un gruppo con cui giocare, online o di persona, è disponibile a tutto. Quindi, nel caso, se state cercando un giocatore o qualcuno con cui iniziare a campare di Vampire, contattate Nedaccio Ciodane. Perfetto, passiamo subito a quello successivo. Giuseppe Bassi, Master, ma se Goulizzo, non so se l'ho scritto bene, Goulizzo, hai messo una L in più e una Z in meno. Un po' più o meno c'eri. Se Goulizzo un Calamaro diventa Cthulhu? Sì, è una domanda, sì è stupida, ma why not? Prima di tutto perché Cthulhu è una cosa ben diversa da un Calamaro solo più grande. Basta questo, non aggiungo altro. Non era da rispondere neanche dall'inizio. Mais e 19. Povero fratello del Master, lascialo dormire. No, ci devo solo provare l'ore un po' di botte. Mr. X 747 Able. Master, non c'entra una sega al Vblog, ma ti prego rispondimi. È normale che su Diablo 3 mi abbiano dato la corona di Leoric come equipaggiamento leggendario con descrizione alla corona del re nero? Sono scioccato. Sì, la trovi la corona di Raleoric. L'abbiamo pure noi. L'abbiamo pure noi, solo che è stato droppato a livello troppo basso e quindi è deboli. Andiamo avanti. Alessandro Cognome Narratore Intanto salve, visto che è la prima volta che le pongo delle domande. Ciao Alessandro. 1. Vorrei sapere se è possibile o logico giocare un vampiro giovane, ma allo stesso tempo di nona o decima generazione. Sì, nel senso, dipende da cosa intendi per giovane. La generazione identifica quanto è antico il tuo sangue. Ma non vuol dire che un vampiro di bassa generazione sia anche necessariamente antico. Per esempio, se un vampiro di quinta generazione abbraccia nel ventunesimo secolo un altro vampiro, creerà un vampiro di sesta generazione. Quindi sarà un vampiro molto più potente delle altre generazioni, ma in realtà sarà giovane, perché sarà del ventunesimo secolo. Quindi è possibile. 2. Però di solito sconsiglierei di giocare a vampiri così potenti barra vecchi. Sconsiglierei soprattutto per le prime giocate, per non fraintendere il sistema di regole e avere un delirio di onnipotenza. Seconda domanda. Scusa se faccio questa domanda scontata, ma Dracula cos'è e dov'è? Allora, mi pare che Dracula sia, nell'ambientazione di Vampire the Masquerade, un... come si chiama? Un voivode degli zimisce. Un voivode. Un voivode, eccolo. Un voivode degli zimisce. Non è un anziano degli zimisce, sì, di solito sono anziani, ma diciamo sono dei capi, dei grossi capi degli zimisce, i voivode. Quindi Dracula era uno zimisce della Transilvania, che praticamente quelli e tutti i carpazzi in generale sono la terra natia degli zimisce, impregnata della maledizione degli zimisce. Tant'è che gli zimisce, come difetto di clan, devono sempre avere con sé un po' della terra dove... del loro luogo di sepoltura. Che nella maggior parte dei casi vuol dire terra dei carpazzi. Dov'è? Non si sa. Non viene detto nel manuale, per quanto ne so io. Terza domanda. Temple, Sabbat, ci sta bene secondo me? E secondo te? Secondo te? Sì, Temple sta perdendo velocemente l'umanità, quindi Sabbat potrebbe fare il caso suo. C'è da dire che però il Sabbat è abbastanza caotico, cosa che Temple non comprenderebbe. Quindi ci sarebbero magari dei piccoli problemi di interazione sociale. Anche e soprattutto perché nel Sabbat l'interazione sociale è molto più elevata. Quanto meno col branco. Cosa che per un solitario come William Temple... Mi risulta difficile. P.S. Mi saluti la regia, sei lì e scusa per gli errori grammaticali. Per questa volta ti scuso. E la regia è stata salutata. Ciao. Ecco. Altra domanda. È di... È di Vadd de Wanderer. Io volevo un po' di chiarimenti. 1. Se un vampiro si sveglia dopo essere stato impalettato al cuore, gli rimane un buco? Allora, un vampiro non si può risvegliare finché è impalettato. Se viene spalettato e si risveglia, all'inizio gli rimarrà il buco. Anche se deve per forza di cose rigenerare il cuore per uscire dal torpore. Cosa che diventa possibile appena il paletto non è più infilzato nel corpo del vampiro, impedendo la rigenerazione. Quindi, all'inizio, un vampiro quando si risveglia subito dopo essere stato impalettato, probabilmente il cuore sarà tornato integro per permettergli di uscire dal torpore. Ma è probabile che abbia ancora il buco. Ma in realtà sta tutto al giocatore, o al vampiro comunque, se curare subito quei livelli di salute che corrispondono al fatto di avere il petto perforato. Poi, 2. Se un vampiro beve tutto il sangue di un altro vampiro, perché non va a intorpore il vampiro prosciugato, visto che un vampiro finito i punti sangue va a intorpore? Perché quello che fa un vampiro bevendo completamente un altro vampiro è chiamata diablerie. Quindi non si limita a bere solamente il sangue, ma a rubargli tutta la vita. Per capirci, un vampiro che va a intorpore per mancanza di punti sangue non è che è senza punti sangue, ma devi più che altro vederlo come se ne avesse il minimo essenziale per vivere. Per capirci, nel corpo umano ci sono 3 o 5 litri di sangue, non mi ricordo mai. Dico una stronzata, mi sembra 5. Vabbè, magari stiamo sparando, diciamo che sono 5. E diciamo che dopo i 2 litri di sangue una persona sviene. Perfetto, vuol dire che un vampiro che finisce a intorpore per mancanza di punti sangue è come se perdesse quei primi 2 litri di sangue. Perdene di più lo porterebbe alla morte. Più o meno la stessa cosa nel vampiro. C'è una rimanenza di sangue, il minimo essenziale per sopravvivere. Cosa che quando il vampiro viene diablerizzato, viene bevuta. Anche quel minimo che serve per sopravvivere. Quindi un vampiro che diablerizza un altro vampiro ruba, beve tutta la sua vita, tutta. Uccidendolo e praticamente assorbendone l'anima. L'anima è la generazione. Solo in quel modo diventano definitivi i vantaggi derivanti da un sangue antico. Perché altrimenti bere sangue antico potrebbe magari dei vantaggi, ma solo temporanei. Mentre solo la diableria garantisce una discesa di generazione permanente. Poi, terzo. L'abbraccio è come il bacio, servono a riti particolari. Cioè, penso che sia. Edivan mi raccomanda la grammatica la volta prossima, perché se no rischio di non capire bene. Cioè, potrei abbracciare una persona buffo per strada? Allora, l'abbraccio non è come il bacio. L'abbraccio è prosciugare di tutto il sangue un mortale. Dopodiché versare nella sua gola parte del sangue del vampiro. Mentre il bacio non è altro che il nutrirsi del vampiro. Il vampiro che morde il mortale. Punto. E questa è la grossa differenza. Alexander 007. Vediamo un fibblog sulla scheda di Vampire. Citazione. Hai preso... Ci sono solo 9 mi piace al momento. Un po' pochi, ragazzi. Avevamo detto almeno 20. Quindi, rigiriamo al prossimo. Vediamo se raggiungiamo i 20. Riccardo 126. Grazie della risposta. Ti sei spiegato benissimo. Evidentemente avevo letto male. Il manuale è il manuale del giocatore. Si chiama proprio così. Farò cambiare di sicuro i pg ai giocatori. Anche perché ho già dato fuoco alle schede. E a tutti i salubri e i giovanni. Ok, non mi ricordo benissimo la domanda. Perché comunque ho risposto due settimane fa. Ma mi pare fosse quella con tutti i clan insieme. Che era un po' irrealistico. Sprushka, Master, come hanno fatto i maghi a rubare l'immortalità? Non viene spiegato benissimo. Postilla, non ho letto il clan book del Tremere. Quindi so solo le informazioni base. Comunque, mi sembra che non venga chiaramente specificato quale rituale è stato usato. Ma è stato usato un rituale magico per rubare l'immortalità. Praticamente prosciugare dell'immortalità questo antico vampiro. Che mi sembra fosse proprio Sauloth. Ma non vorrei sbagliare. Il antidiluviano dei salubri. Ma non vorrei sbagliare ragazzi. Potrei confondermi in questo punto. Anche se sono sicuro che c'entra Sauloth da qualche parte. Perché i salubri odiano i tremer. Praticamente hanno fatto un rituale per rubargli l'immortalità. Uccidendo Sauloth. E guadagnando loro stessi l'immortalità. Cosa che però ha ucciso la loro magia. Come la usavano prima. Secondo, ma se il capo dei Giovanni avevuto l'antidiluviano dei Cappadociani. Allora adesso i Cappadociani sono fuori pericolo. Mentre Giovanni no. Fuori pericolo in che senso? Nel senso che non hanno un antidiluviano che li vuole morti? No. Se è in quel senso. Allora, prima di tutto. Uno. I Cappadociani sono tutti morti. Da ambientazione. Poi magari da qualche parte ce ne sono alcuni. Ma dall'altra parte gli Araldi del Teschio si dice che siano Cappadociani sopravvissuti. Che sono tornati per vendicarsi dei Giovanni. Ok. Ma di base praticamente la stirpe dei Cappadociani è stata sterminata. Però la possibilità che alcuni siano sopravvissuti c'è. In ogni caso non sono fuori pericolo. Perché gli antidiluviani non è che se si risvegliano massacreranno solo la propria stirpe. Non è che hanno il gusto fine. Quindi no, sono antidiluviano. Sono Malcav. Quindi berrò solo Malcav e non berrò nessun altro. No. Quindi se arriva la Genna tutti sono nella merda. Nessuno escluso. Se poi è addormentato l'antidiluviano dei Giovanni immagino di sì. Invece mi sembra che l'antidiluviano dei Giovanni non si sia addormentato. Passa diverso tempo comunque in torpore. Ma in realtà controlla ancora strettamente il suo clan. Infatti il clan dei Giovanni è uno dei clan più strettamente controllati. dai propri sire man mano. Quindi la, diciamo, la gerarchia è bella salda. Anche perché c'è proprio il capostipide su cui si può fare riferimento. Ma ripeto, non ho letto il clan book dei Giovanni. Neanche quello, purtroppo ragazzi. Quindi non vorrei dire castronate. Ma mi pare che in realtà lui sia sveglio. L'antidiluviano di un determinato clan potrebbe nutrirsi anche dei vampiri di altri clan? Certamente. Ci ho pensato ora. Ma il diluvio è avvenuto sulla terra. Come hanno fatto gli esseri umani a salvarsi? L'arca di Noé ti dice qualcosa? Ovviamente, oltre a quello, pensa a possibili altre barche. Seconda, terza cosa. Ricordiamo sempre che si parla di eventi biblici, quindi mitologici. Nulla vieta che il diluvio universale non fosse semplicemente... Cioè, nel senso, si possono essere varie versioni. Magari non è stato allagato tutto il mondo, ma solo dove era la nazione, il continente, chiamiamolo come vogliamo. Il posto dove era assorto Enoch, la prima città che è quindi stata spazzata via insieme alla maggior parte di tutti i vampiri. Sta di fatto che comunque l'arca di Noé è un ottimo indizio. La domanda delle domande. Quando Nauks cercherà di scalare un edificio in vampire? Ah, non lo so e spero che non lo faccia mai. L'ultima. Ma nel live di Lextalionis, i vampiri come recuperano punti sangue? Io vedo già Quit attaccato al collo di qualcuno. E per recuperare punti sangue devi bere sangue da qualcun'altra. Che siano PNG interpretati appositamente, oppure semplicemente narrati in quelle parti, o altri giocatori. O i poveri barboni. O i poveri barboni. Nel senso, attenzione, non confondete, un live non vuol dire che devi, non puoi raccontare nulla, devi raccontare molto alla fine, devi raccontare quello che il tuo personaggio fa in date cose. Nel senso, se dico prendo un elicottero, non ho un elicottero da prendere, quindi posso solo raccontare quello che faccio. Quindi, attenzione, e non confonderti, Splushka. Fabio Comazzi. Master, avendo seguito le vostre peripezie a partire dai primi video della Compagnia del Netto, fino ad arrivare agli ultimi live su Vampire, mi sono fatto ormai un'idea precisa dei vari giochi, anche se di alcuni già ero pratico. Ed ero curioso di sapere la tua opinione. Quale, secondo te, ha il migliore sistema di regole, dal punto di vista tecnico, combattimenti statistiche, eccetera? Quale è la migliore ambientazione? Quale offre i migliori spunti narrativi e interpretativi? Quale ti diverti maggiormente a masterare e giocare in generale? Scusa se ti ho crivelato di domande, solo che sono un tipo molto curioso. Fabio, allora, ho risposto nei vari V-blog in giro e non vorrei usare troppo tempo per rispondere nuovamente. Comunque, ogni gioco di ruolo ha i suoi guandagni, ha i suoi vantaggi, ha i suoi punti positivi. Quindi, mi è impossibile dare proprio i migliori, decidere i migliori. Nel senso, qual è il sistema di regole migliore? Vampire, Sinereque, Richiamo di Cthulhu. Uno dei tre non lo sceglierei. Qual è la migliore ambientazione? Sinereque, Vampire, Richiamo di Cthulhu, Warhammer Roleplay, Dark Heresy, Forgotten Reans. Ce ne sono troppi ragazzi, non ho dei preferiti. Non mi sono mai focalizzato troppo su solo un gioco nell'ultimo periodo, quantomeno. Visto che ho avuto la possibilità di allargare le mie conoscenze. Quale offre i migliori spunti narrativi e interpretativi? Vampire, Sinereque e Richiamo di Cthulhu. Quindi, in realtà, stanno vincendo Vampire, Sinereque e Richiamo di Cthulhu. Quale ti diverti maggiormente a masterare? D&D, perché lo conosco talmente bene che non ho problemi a... non mi perdo mai, perché ormai lo conosco talmente bene. Sinereque perché mi piace veramente tanto. E Vampire non l'ho ancora masterato abbastanza, ma mi piace molto. Quindi, ahhh... Non è vero, ho detto che uno di quelli che mi piace di più masterare è proprio D&D. Non mettetemi etichette che non corrispondono alla verità. Spero di averti dato una risposta esaustiva, seppur breve. Purtroppo non ho i singoli miei preferiti. Non ce l'ho. Sais... Sais P. Master, cos'è il terrore rosso? Se poi qualcuno mi risponde direttamente qua sotto a posto. Ci sono io, ragazzi, lo dico anche per tutti gli altri. Il terrore rosso è quello che viene chiamato Rorschach. Mi spero di averlo detto bene e non aver cannato, ragazzi. Canno sempre la dicitura di quella cosa. Comunque, dovrebbe essere Rorschach. O comunque terrore rosso. Praticamente, la frenesia è quando la bestia dentro il vampiro prende il controllo e lo rende il vampiro appunto una bestia il cui unico scopo è sfamarsi. Quindi aggredire altre persone, berle per, diciamo, sopravvivere. Entra in gioco quando il senso di autoconservazione dell'istinto animale che è cresciuto dentro il vampiro esplode. Il terrore rosso, o Rorschach, se non ho sbagliato a dirlo, invece è la paura. È la paura di quell'animale che è in te, di quella bestia. La bestia che è all'interno del vampiro. Quindi tutte quelle cose che manderebbero, terrorizzerebbero la bestia. Che rischia di prendere il controllo anche in quei casi. Diciamo che è la paura incondizionata. Quella paura anche che comunque è normale, è proprio, la si può vivere, cioè può succedere a tutti. Quella paura incondizionata che ti porta, ti può scappare quando magari non normalmente, che ne so, avresti prestato soccorso a una persona che invece superi, anzi getti di lato per paura. È l'istinto di conservazione nella paura. Se l'altro è l'istinto di conservazione nel predare, questo è l'istinto di conservazione proprio per vivere, sopravvivere. Quindi il terrore rosso è proprio quello che porta alla paura e alla fuga il vampiro. Quando praticamente la bestia prende il sopravvento e fugge. Quindi si può avvenire quando si è particolarmente feriti e si è quasi morti. Può avvenire in presenza del fuoco, della luce che alzano velocemente, spaventano molto facilmente il vampiro. Può avvenire anche in presenza di effetti paranormali che spaventano la bestia. Quindi in realtà, nel senso, quindi è molto, sono due cose molto separate. È una cosa interessante comunque da giocare. Marco Tosoni, già un narratore, ecco la mia domanda, forse un po' sciocca, sciocchino. Hai presente Dampir, quel fumetto della Bonelli? I vampiri lì possono girare dalla luce del sole, basta che siano imbacuccati per bene. Tipo strati di vestiti, occhiali da sole, sciarpa, passamontagna, guanti, eccetera. Non è possibile sta cosa in Vampire, vero? Allora, in realtà sì, però tutte queste cose non ti fanno altro che guadagnare tempo. Ma il vampiro non può sopravvivere all'esterno. Diciamo che è come avere un ombrello, è come se piovesse fuoco e tu hai un ombrello. Sì, ti protegge all'inizio, ma quanto resiste? Nel manuale è specificato, ci sono anche vari gradi con se il cielo è nuvoloso, se sei completamente coperto, se hai comunque un tetto che ti crea un'ombra su di te anche se il sole c'è intorno. Tutte queste varianti per vedere quanto velocemente, quanto diventa facile o difficile comunque che il vampiro prenda fuoco. Quindi il vampiro in realtà può andare in giro di giorno, ma deve essere completamente coperto e non può resistere tanto. Però potrebbe. Seconda domanda, conosci il BG di qualche antidiluviano? Se sì, sarei curioso di sapere quanto sono forti e che aspetto hanno. Allora, non conosco, mi dispiace, in effetti bene nessun BG di nessun antidiluviano, perché non ho mai avuto la possibilità di leggerli bene i clambook. Oddio no, Cappadocius, conosco il background di Cappadocius, ma Cappadocius era forse il più gentleman tra gli antidiluviani. Era uno che, non mi ricordo se, cioè praticamente che sfiorava la Golconda, o comunque aveva una tale compressione del mondo che lui aveva smesso comunque di, cioè aveva totalmente rivoluzionato la sua natura di vampiro. Allora, però, di aspetto, attenzione, a parte i vampiri mostruosi, come gli Zimisce, Inosferatu, o quelli che hanno perso completamente umanità, quindi sono diventati bestiali, anche i Gangrel, gli altri sono comunque, ricordo, la base è umana, quindi rimangono abbastanza simili all'umano, di aspetto. Quanto sono forti? Sono potentissimi gli antidiluviani. Sono, hanno le discipline, le loro discipline, a 10. Per fare un esempio, ricordo sempre che Brugia, l'altidiluviano dei Brugia, aveva Tempus, e al 10 livello lui poteva andare nel futuro. Megoglioli. Però non conosco il suo background benissimo, quindi non mi fermerei qui a parlarne. Magari prossimamente riuscirò a leggermelo bene. Conosco alcune cose qua e là, però troppo poco per poterne parlare con fluidità. E non mi piace troppo fare le congetture, come insinere a quei ragazzi, per esempio, non sono mai dato troppo nello specifico, di soviet, non avendolo letto. Comunque sono potentissimi, sono praticamente delle divinità in terra. Per farvi capire, nelle ultime notti, il manuale che praticamente parla del, poco prima della Gehenna, dove appunto inizia il risveglio degli antidiluviani, si parla anche del risveglio di uno di questi antidiluviani. L'antidiluviano dei Ravnos. E Ravnos, prima di tutto esce fuori e fa impazzire tutta la genia Ravnos. Tutti i Ravnos del mondo impazziscono. Proprio così. E il 90% muore perché impazzisce, si fa ammazzare, si uccide, si toglie la vita da solo. Quindi, seconda cosa, lui ha resistito sotto la luce del sole per diversi minuti. e uno dice, vabbè ma solo pochi, diversi minuti e che sarà mai. No, aspetta, diversi minuti? Decine di minuti. E che sarà mai? Sì, ma ricordo che più sei vicino a Caino, più le maledizioni sono forti. quindi tecnicamente ti è più difficile resistere. E veramente ha resistito, ha continuato a combattere contro dei, tra l'altro, lasciamo perdere che se no ci prendiamo in altre cose, contro dei vampiri cinesi orientali, molto particolari, sotto la luce del sole. Era veramente fortissimo. Tra l'altro, vabbè, Ravlosi in realtà non si capisce bene perché li possa perdere, visto che tecnicamente con Chimerismo 10 potrebbe decidere di ristrutturare un continente come vuole. E l'illusione che crea sarebbe reale. Perderebbe vita. Voglio un porca lato, diventa un porca lato. Ma vabbè, queste sono cose in più ragazzi che non mi vogliono oltrare troppo. Claudio Cappabianca. Master, tre domande. Uno, è possibile che la storia di Caino sia tutta una funzione creata per dare un senso alla propria esistenza? Di sicuro alcune frange della Camarillago pensano. Pensano che Caino sia in realtà una leggenda, appunto una specie di mito che in realtà non esista. Però, da un altro punto di vista e ovviamente di solito in quelle frange ci sono i vampiri più che cercano di una spiegazione scientifica per la natura dei vampiri. Però ti renderai conto anche te che le prove vanno contro. Rendono difficile poter pensare che non esista prima di tutto un qualche progenitore quasi divino e comunque delle creature divine. Prima di tutto perché esistono i fantasmi, esistono i fatati, esistono i demoni, perché i vampiri possono essere posseduti. Il fatto che possa esistere Caino, certo, queste cose non le... la maggior parte dei vampiri, della comunità normale dei vampiri non le conosce. Però quelli che lo sanno ovviamente si rendono conto che quindi che Caino sia esistito veramente è altamente probabile. e comunque è difficile trovare delle spiegazioni scientifiche per alcune delle maledizioni di... per alcune delle maledizioni che affliggono i vampiri. Quindi nel senso non... è difficile alcuni lo rinnegono di qualche leggenda ma in realtà l'ambientazione ti dice che esistono. Punto. Due. Se i vampiri usano il sangue per simulare il respiro non dovrebbero usarlo anche per parlare. No, in realtà essendo comunque sempre quella componente sopranaturale non hanno bisogno di usare il sangue per parlare. Tre. Gli NPG possono avere punti di forza di volontà. Tutti i personaggi tecnicamente hanno punti di forza di volontà. Tutti i PNG tutti... anche i mortali hanno punti di forza di volontà. Tutti ce li hanno. È proprio la forza di volontà di quella persona di quell'essere. che deriva dalla somma di coraggio e self-control mi pare. Non vorrei non vorrei confondere. Comunque self-control più coraggio. Quindi cose che tutti gli esseri hanno in Vampire. Il commentatore. Oh mio Dio ventirighe. Narratore P.S. Incomincio col dirle che ho una domanda lunga quindi se non la leggerà non la leggerà capirò. Vediamo dai. Volevo continuare il discorso che era stato aperto nel precedente V-Blog in cui chiedevo questo. Ma quindi se i vampiri non hanno bisogno di respirare vuol dire che possono stare sott'acqua quanto vogliono? Se sì potrebbero formare una civiltà subacqua per nascondersi all'umanità magari grazie all'acqua la luce nuocerebbe meno al loro corpo e non trarrebbero neanche il rischio di bruciare? Lei cosa ne pensa? Ora lei aveva risposto dicendo che sarebbe difficile nutrirsi in effetti è vero però nel caso la comunità non sia troppo gana si potrebbe ovviare il problema tramite subacquei tramite subacquei un corpo specializzato di vampiri che recuperano il sangue e lo portano successivamente alla comunità oppure idea più stramba nel caso fossero del sabbath si potrebbe costruire un vero e proprio sanguedotto che rifornisce continuamente sangue e si ovvierebbe al problema di essere scoperti se tale comunità si trovasse in uno stato povero in cui le nascite sono eccessive e quindi potrebbero facilmente rifornirsi sì lo so è brutto ora lei potrebbe dirmi che dovrebbero stare attenti a non bere sangue contaminate perché nei paesi poveri le malattie sono frequenti ma per ovviare il problema potrebbe esaminare soprattutto per informarsi precedentemente delle cause della morte delle persone e adesso potrebbe anche dirmi che il sangue di un individuo morto non soddisferebbe appena l'esigenza di un vampiro ma sono del sabbath quindi potrebbe rifornirsi uccidendo parte della popolazione ovviamente non dico che il sangue edotto deve traspluttare in continuazione il sangue altrimenti si sterminerebbe la popolazione e si parla di un tubo di poco diametro ovviamente sarebbe anche interessante se ci fossero vampiri filtrati nei medici che aiutano le persone dei paesi poveri appunto per poter verificare lo stato di malattia nel caso bla 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 cosa ne pensa? allora vampiri tra i medici è normale esistono ce ne sono la tua proposta non mi piace affatto nel senso potrebbe cioè non mi piace io la boccio tutta la linea nel senso una comunità una l'unico l'unica cosa che mi verrebbe in mente è un laboratorio subacqueo tipo della camarilla per fare degli esperimenti lontano dai mortali ma poco il sabbat si nasconderebbe sotto ma il sabbat pensa di essere migliore quindi starebbe in mezzo alla gente comune e tirannigerebbe sulla gente comune non gliene fregherebbe nulla di stare anzi lo considererebbe un affronto stare in fondo al mare e nascondersi loro il sabbat combatte è posta contro questo contro la maschera contro il nascondersi quindi i sabbat proprio ti se fosse un sabbat ti proporresti questo a dei sabbat ti prenderebbero e ti lincerebbero proprio seduta a stanze senza problemi e si darebbero anche delle forti pacche sulle spalle soprattutto se c'è un brucia quindi no l'idea non mi piace il condotto di sangue non mi piace nel senso l'energia per pompare bisogna recuperare il sangue il passaggio comunque deteriorerebbe il sangue bisognerebbe rifornirsi di tanto sangue per avere poco avere poco sangue alla fine decente no non mi piace per nulla l'idea nel senso non non la trovo sensata anche perché gli umani i vampiri vogliono controllo cioè i vampiri ricercano il potere lo ricercano in modo spasmodico perché la loro esistenza è immortale quindi hanno bisogno continuamente di nuovi stimoli isolarsi in fondo al mare non è esattamente la cosa cioè andrebbe totalmente contro il il concetto di vampiro Ciro Castaldo Master giocherete sabbat non non è da escludere non è da escludere però non posso assolutamente confermare o smentire al momento Alessandro Negri Master cosa succede se arrivi a 0 nei sentieri e a 10 ti faccio un esempio se un assamita che un tempo era un orfano ed è stato trasformato dopo che un altro assamita assamita notandola visto il potenziale di lui decide una volta divenuto indipendente dal proprio sire di aiutare gli orfani senza tette e non diabolizza gli altri vampiri perché non lo ritiene un atto giusto e ad un certo punto raggiungerà col suo sentiero lo 0 perché gli assamiti impongono di diabolizzare i vampiri che non seguono la via di Hakim e impone un distacco assoluto dalle vacche allora no non è possibile nel senso o hai il sentiero o hai l'umanità raggiungere il livello 0 di sentiero vorrebbe dire che tecnicamente torni all'umanità ma ricordo che i sentieri forniscono al vampiro un nuovo codice morale che diventa l'esistenza stessa del vampiro diventa molto importante perché ricordo che bisogna perseguirlo bisogna perseguirlo con dovizia altrimenti si cade nella bestia se si raggiunge l'umanità 0 si diventa una bestia si diventa un animale tecnicamente se con un sentiero si arriva a 0 vuol dire che si è negato totalmente quel sistema morale ma tecnicamente non sei neanche umano quindi sei arrivato alla bestia anche lì non ritorna l'umanità cioè o l'assamita aveva il sentiero dell'umanità o aveva il sentiero di Achim e ok gli assamiti hanno praticamente tutti la via di Achim che è il loro sentiero ma non vuol dire che ce l'abbero fin da subito lo sviluppano bisogna che glielo si insegni il vampiro potrebbe opporsi anche anche se è molto strano però potrebbe opporsi potrebbe essere una samita con l'umanità però non potrebbe cioè nel senso non può adottare quel sistema morale del sentiero e poi tornare all'umanità è molto difficile perché perché vedi il mondo in un modo totalmente diverso cioè è molto difficile questo passaggio non è facile passare da una cosa all'altra quindi attenzione se si raggiunge il 10 di un sentiero con l'umanità 10 si può raggiungere la Golconda si può non si raggiunge ragazzi perché poi c'è tutto l'altro percorso da compiere e diversi vampiri muoiono durante quel percorso se si raggiunge 10 in un sentiero complimenti sei pienamente completamente dentro quel sentiero cioè tu sei l'incarnazione di tutti i codici di quel sentiero e ovviamente hai un controllo assoluto e ricordo che ti permetterà di usare tutti i dadi ricordo anche che l'umanità bassa ti impedisce di usare tutti i dadi su alcuni tiri quindi attenzione per esempio se ho umanità 4 per tirare e fare un test di umanità alla fine potrò tirare solo al massimo 4 dadi per capirci quindi è questo è difficile passare da una cosa all'altra è più probabile anzi è più sensato anzi bisogna fare così che quella samita non è non ha è stato introdotto a quel sentiero al sentiero della via di Hakim ma alla fine non l'ha accettato per capirci praticamente cioè non può essere tipo arrivato al cioè non può essere tipo arrivato al sesto grado nel sentiero della via di Hakim e poi aver avuto il ripensamento è troppo difficile anche perché il vampiro rischia di diventare un animale se abbandona nel suo sentiero perché rischia di non avere più un codice di condotta che lo mantenga lucido e non lo faccia cadere nella bestia Christian Silieri vogliamo il vblog sulla creazione della scheda di vampire hai solo un mi piace quindi purtroppo anche te al prossimo giro ragazzi 20 mi piace ragazzi mi metterò ad agosto a fare questo tutorial se no troverò tempo a settembre Matteo di Fbginato se non è scritto bene Matteo sto per iniziare a giocare una ventro informatica sexy non pensate troppo male di me comunque mi sono ben chiari i contatti nel senso da quello che ho capito ogni pallino aggiunge un contatto maggiore ma la mia domanda sorge sui contatti minori c'è ce n'è Matteo ce n'è un determinato numero per punto n apostrofo e accentata ti prego altrimenti chiedo informazioni a Caino che in teoria me ne darebbe 47 volte ok lasciamo perdere questo ultimo commento anche perché è scritto con una grammatica che non capisco i contatti minori tecnicamente no non è specificato il numero quindi tecnicamente sono molteplici possono essere infiniti dipende tutto alla fine dal master nel senso il master il narratore te dovete man mano gli puoi chiedere di volta in volta ho un contatto tra i poliziotti un poliziotto così e il narratore decide in base al tuo background se è sensato per fare un esempio che J.B. Rourke nell'avventura di Vampire de Masquerade avesse un contatto universitario non ha senso da background suo quindi ci sta che non ce l'abbia quindi il narratore ti direbbe no non è sensato per il tuo personaggio ma i contatti minori alla fine sono semplicemente il fatto che hai conosciuto tanta tanta gente quindi hai tanti contatti come una persona che comunque nella vita si fa i contatti quanti amici hai Matteo ne avrai tanti quindi tutte queste potrai contattarli in un qualche modo conoscenti gente che ti ha dato il numero li puoi contattare quelli sono i contatti minori gente che non ha grossi poteri però sono dei contatti minori può essere appunto può essere qualsiasi cosa come il proprietario di un negozio l'impiegato l'uomo della sicurezza del tal posto può essere qualsiasi cosa e quindi non è giusto non specificare quanti sono i contatti allora Alessandro Negri si può pronunciare sia vitae che vite dipende se usi pronuncia classica o ecclesiastica perfetta Alessandro Negri che ci ha risolto il problema quindi posso dire sia vitae che vite quindi sono contento grazie tra l'altro dell'informazione sulla pronuncia classica o ecclesiastica grazie non lo sapevo non sapevo che fosse una ecclesiastica Cappellaglio Matto 1 sai dirmi qualcosa sui salubri so solo che il loro antidiluviano saulot è stato ucciso dai tremer per diventare vampiri e se le mie fonti sono corrette che avevano poteri di guarigione tu cos'altro sai allora i salubri avevano è un clan che ha sempre avuto una pessima reputazione pessima reputazione perché vengono chiamati i ladri di anime il motivo non posso spiegartelo benissimo perché non non l'ho capito neanch'io non viene spiegato benissimo nel manuale base anche se di sicuro nel clan book viene spiegato con più calma rimane il fatto che i salubri venivano appunto chiamati ladri di anime si diceva che rubassero le anime degli altri vampiri ed erano in parte temuti in più hanno il potere di valoren che è molto particolare è un potere di guarigione infatti i salubri erano dei guaritori all'inizio e l'utilizzo di valoren portava la possibilità di curare o nel caso che mi ricordo un potere particolare molto particolare di valoren che praticamente permette al vampiro al salubre di uccidere un mortale consenziente senza farlo soffrire e lui dice è che il potere di merda ok ma viene spiegato in modo interessante praticamente questo potere è stato sviluppato per per praticamente far cessare il dolore in quella gente in quei mortali che avevano che volevano non avevano erano stati distrutti dalla vita volevano morire ma avevano paura del dolore della morte praticamente i salubri offrivano una morte dolce senza dolore inoltre l'anima di questi mortali non si sarebbe mai persa a differenza delle anime di altri mortali che possono essere vincolate con rituali necromantici oppure ritornare come spiriti mentre con i salubri la possibilità appunto di rendere sicura il viaggio dell'anima verso l'aldilà e quindi sono molto particolari dopo la distruzione di Saolot e la quasi totale distruzione del clan i salubri si sono incazzati come delle famiglie con i tremer la guerra è durata per secoli e i salubri purtroppo ne sono usciti praticamente sconfitti i salubri che sono rimasti sono quasi tutti anti tribù hanno abbandonato il clan originale i dettami del clan originale anche perché i salubri avevano un dettame molto particolare l'infante avrebbe dovuto bere avrebbe dovuto diablerizzare il sire una volta pronto per creare un ciclo eterno praticamente per non creare una stirpe troppo giovane ma per diciamo mantenere il sangue antico e a un certo punto donare tutto se stesso al proprio infante che ti avrebbe diablerizzato una cosa interessante sa di fatto che gli anti tribù hanno invece sviluppato Valeren sul punto nella via del combattimento questi sono guerrieri che nel sabbat sono molto potenti molto vendicativi e in realtà sfruttano il sabbat per la loro vendetta e il loro utilizzo di Valeren non è più di guarigione ma è offensivo quindi il terzo occhio che è il tratto particolare dei salubri il terzo occhio che si apre nella Valeren di combattimento permette di appunto di sviluppare poteri che permettono di danneggiare bruciare il vampiro con il terzo occhio sviluppare scudi cose del genere quindi un utilizzo totalmente diverso per combattere questa guerra e ho parlato un sacco però i salubri sono uno dei clan più particolari interessanti insieme ai cappadociani quei clan che sono praticamente farsi due non riesco a trovare un vizio per un ravenos forte nel fisico e con alte capacità sociali ma facilmente irritabile finora avevo pensato al mentire e a rubare ma mi sembrano più adatti a un kainita meno forzuto avevo in mente anche il gioco d'azzardo ma mi pare un po' troppo mainstream qualcuno ha qualche idea? perché scusa non ha senso perché mentire e rubare non ti sembrano adatti a non ti sembrano adatti a un kainita forzuto scusa? non ha senso non ha proprio senso non lo capisco o forse che il fatto a quel punto i sementi e rubi sei come un ladro e quindi dovresti essere magro se è quello è proprio uno di quegli preconcetti che sono da prendere a distruggere in realtà come difetto non mi ricordo se sia nel manuale base o nel manuale del sabbat mi sembra che ci sia un difetto che sia ira insensata che praticamente alza il livello di frenesia lo rende irritabile facilmente facile all'ira un po' come i brugia però non mi ricordo se sia nel manuale base o nel manuale del sabbat rimane il fatto che mentire e rubare guarda che hanno senso totalmente senso con un uomo forzuto soprattutto se comunque è un ravenos visto che crea illusioni è facilissimo rubare per un ravenos crea illusioni metto una parete dove metto una parete dove c'era una porta e chi lo vede cioè può entrare ovunque ragazzi può fare può lasciare la cassaforte a certi livelli può lasciare lì l'illusione della cassaforte quando in realtà non c'è c'è robe troppo potenti quindi no non capisco proprio il tuo ragionamento se per il preconcetto di una cosa simile al ladro di D&D prendilo e brucialo anche perché io vorrei vorrei un ladro muscoloso proprio un ladro massiccio perché perché un ladro lo puoi strutturare anche nel fatto che ti aggredisce alle spalle è il tagliagole dietro l'angolo e quindi ti aggredisce di forza e il colpo furtivo però lo aiuta per ucciderti sul colpo ci avete mai pensato? Nicobit Master 1 si può dichiarare si può diciamo diablerizzare un lupino scusa se ho scritto male diablerizzare no l'hai scritto giusto si può bere il sangue di un lupino non lo si diablerizza nel senso stretto perché la diablerie funziona solo tra vampiri però si può bere il sangue di lupino e il sangue di lupino è molto potente ma ha anche delle contraddicazioni può far impazzire il vampiro può fargli spuntare tratti animaleschi ma in generale dovrebbe potenziarlo renderlo molto potente per un breve periodo 2 cosa comporta un legame di sangue un legame di sangue attivo nel senso tre sorse di sangue porta a un legame di sangue che praticamente il legame di sangue praticamente rende la persona sotto legame uno schiavo un servo non farà nulla che possa danneggiare il suo sire il suo di solito è il suo sire viene comunque chiamato il suo sire non farebbe nulla per danneggiarlo praticamente si instaura una specie di di amore per il sire anche se in realtà non lo amava ma è dovuto al legame di sangue simile per certi versi a ascendente 3 al potere di ascendente 3 che è incanto ma se ascendente 3 incanto trasforma le persone sotto incanto anche in persone che agiscono in maniera stupida a causa di questo legame forzato il legame di sangue invece è un legame più solido che praticamente comunque lascia totale intelligenza totale capacità al vampiro soggettato che però non riesce a cioè non può non farebbe nulla per uccidere il suo sire e per tradirlo quindi quindi da questo vuol dire che un vampiro sotto legame di sangue è facilmente manovrabile non a caso il sabato odia questa cosa 3 si può giocare anche un umano o un lupino si si possono giocare entrambi però un umano bisogna strutturare bene una storia se è un umano con un gruppo di vampiri l'umano sarà svantaggiato sarà molto svantaggiato se è un gruppo di umani cacciatori mi sembra che ci sia proprio un manuale dei cacciatori ma comunque potrebbe essere anche degli umani potreste fare un'avventura una campagna molto interessante basato su degli umani che incappano nel mondo dei vampiri potrebbero essere agenti dei servizi segreti operai bloccati che ne so in una miniera dei carpazzi con uno zimisce potrebbero essere tante cose potrebbero avvenire delle storie horror molto interessanti un lupino certo c'è il manuale licantropi werewolf non so se è mai stato tradotto in italiano c'è il manuale licantropi che permette di giocare licantropi e li esplora in maniera più esaustiva purtroppo io non l'ho letto ho letto solo alcune poche cose in giro e quindi non mi addentro ulteriormente il serpenteggio visto che Suoma Magità e il Master non hanno letto la mia ultima linea di sangue werewolf ne ho scritta un'altra spero che a Suoma Magità piaccia asprezzo molto gli sforzi il serpenteggio però veramente non le riesco a leggere nel senso sono scritte troppo piccole mi viene mal di testa poi non c'è molta pumpeggiatura quindi non posso dirti che ho apprezzato totalmente quello che hai scritto purtroppo per difficoltà di ricezione del messaggio Matteo Menta narratore se un vampiro del sabbat si nutre tre volte di un vampiro della camarilla senza ucciderlo perché è stato interrotto prima di ucciderlo cosa è simile si forma un legame o quello del sabbat implode e se lo scoprono lo uccidero allora hai messo un caso troppo troppo un caso limite veramente un caso limite un vampiro del sabbat che beve dallo stesso vampiro della camarilla per tre volte perché sta tentando di diablerizzarlo e per tre volte viene interrotto in tre momenti diversi minchia fa cagare come cacciatore dai è una domanda troppo limite comunque ricordo il salvagente del sabbat nel sabbat la volderi che viene fatta nel branco il legame di sangue fatto tra i membri del branco spezza il legame di sangue che può esserci tra un vampiro e un altro vampiro singolo come appunto il classico legame di sangue quindi il sabbat ha l'ancora di salvezza che è la volderi che permette di non avere vampiri sotto i legami di sangue di vampiri esterni alla setta se lo scoprono come proveranno comunque a capirlo magari lo sfrutteranno per arrivare al camarillico comunque ripeto mi hai messo un caso limite un caso troppo limite mi spiace Kageisa come si crea un clan? non si crea nel senso allora vampire ha già tanti clan creare un clan o meglio spero una linea di sangue di nore è molto complicato per questione di bilanciamento e seconda cosa che bisogno c'è? nel senso sono già tante i clan e le linee di sangue i clan sono 13 prendi le linee di sangue e le varie linee di sangue minori di ramazioni e raggiungi 25 le 25 linee le 25 tipologie di vampiri hai veramente bisogno di altre le tipologie di vampiri? quando poi in ogni singolo clan puoi personalizzare il personaggio il vampiro come vuoi? comunque se vuoi creare un clan cosa che io ti sconsiglio vivamente la cosa più semplice è prendere uno dei clan esistenti e fare delle modifiche su quello per avere almeno un risultato alla larga bilanciato Matteo Menta narratore un ventro può avere come sangue favorito l'ultimo tipo di sangue di una persona? in che senso? l'ultimo l'ultimo tipo di sangue può avere come sangue favorito l'ultimo tipo di sangue di una persona? l'ultimo Matteo non si capisce la tua domanda se intendi che lui si ciba solo dell'ultimo sorso di sangue di una sola persona ma per favore ma riscrivemela ridicendomi la domanda così magari capiamo meglio Matteo Menta di nuovo ma se un vampiro compie diablerie potrebbe raggiungere il potere degli antidiluviani? se arriva a diablerizzare un antidiluviano sì non attenzione se io ho cinque vampiri uno di sesta e quattro di quinta generazione e il vampiro di sesta si beve tutti e cinque i vampiri di quinta generazione non si sommano quindi lui al massimo arriverà alla quinta generazione di sesta arriverà alla quinta massimo non è che bere più vampiri della stessa generazione fa salire di generazione certo ci sono dipendenti da diablerie nel sabbat vampiri che ormai provano tale gusto nel diablerizzare che lo fanno a prescindere della generazione dell'altro vampiro lo fanno per il piacere di bere la vitae perché la vitae è molto più nutriente soddisfacente inebriante del normale sangue dei mortali poi quello dei vampiri anziani lo è ancora di più è come vino vino imbottigliato vino di qualità imbottigliato da secoli ma buono ancora piuttosto che appunto uno di tredicesima generazione che è il cartone di vino allora alexander 007 allora master che differenze ci sono tra i quenji e i vampiri occidentali ho sentito che sono più umani ma qual è la loro maledizione allora i vampiri i vampiri orientali che si chiamano dov'è dov'è Africa Asia eccolo qui i catagliani che poi si dividono nei quajin sono molto diversi dai vampiri occidentali la loro differenza maggiore per quanto ho capito perché ne so veramente poco ragazzi è che i vampiri orientali nascono non si abbracciano nascono punto nel senso questa è la grande grossissima differenza che conosco ovviamente hanno delle maledizioni dovrebbero cambiare qualcosa ma non ne so abbastanza però anche loro non regono la luce del sole e non so però purtroppo la loro storia so solo poche cose date dai manuali base quindi che sono in sono a Las Vegas sono sbarcati in Florida Las Vegas e stanno combattendo contro gli anarchici per guadagnare un caposaldo in America sono divisi a modi clan di di clan di clan tipo clan del dragone clan del del vento robe così ragazzi non me la ricordo bene però sono divisi tipo in clan e sono simili alla triade o comunque alla triade se no alla yakuza cioè una comunque un'organizzazione criminale orientale sono strutturati più o meno in quel modo a grandi linee ragazzi poi hanno anche una grossa tradizione ma diciamo che alla base proprio le operazioni che per esempio avvengono in America sono simili a quelle che potrebbe attuare la triade come organizzazione Nicola Sorlandi narratore è possibile giocare a un flagello brugia che usa solamente ascendente? sì potrebbe nel senso allora di solito un flagello è potente nel senso ha bisogno perché deve arrivare allo scontro quindi solo con ascendente è un po' difficile sarebbe quel genere di flagello che piglia il vampiro nuovo in città perché ricordo che il primo compito di flagello è rastrellare la città e raccogliere i vampiri che sono arrivati senza presentarsi dal principe e con ascendente con un alto livello di ascendente convince da seguirlo e portarseli dietro seconda domanda come trova il sistema di regole per le azioni in vampire a mio parere è abbastanza realistico poiché è molto raro non ottenere almeno un successo tirando più di 4 dadi questo è ottimo poiché prendendo come esempio un tiro di dnd a difficoltà 16 e un tiro in vampire a difficoltà 6 tirando 5 dadi in dd si avrebbe il 25% di possibilità di riuscire mentre in vampire si avrebbe il 50% di possibilità di riuscire per 5 dadi questo è corretto se si pensa che allora prima di tutto non fare questi ragionamenti di cifre non li fare perché hai sbagliato totalmente di proporzioni dovremmo parlarne qui una marea di tempo perché devi contare la difficoltà perché hai messo 16 una parte e sei dall'altra visto che 16 in rapporto dovrebbe essere più elevato del 6 base di vampire perché 5 dadi di una parte perché non 3 troppe cose complicate non fare queste proporzioni è vero che di base in vampire è più facile ottenere un successo finisco di leggere la tua domanda questo è corretto se si pensa che se un individuo è in grado di compiere correttamente un'azione dovrebbe avere più probabilità di riuscire nel suo intento allora è vero nel senso vampire grazie alla possibilità che è in generale è più semplice ottenere un successo e poi con i successi bonus si ottengono i risultati bonus diciamo che si dà più solidità alle competenze del vampiro se un vampiro è competente in una cosa è molto più facile che abbia successo in quella cosa è più difficile che capitino troppi insuccessi i classici tiri sfortunati in D&D di fila questo è vero e lo trovo più realistico anche a me infatti piace molto il sistema di vampire terza domanda che tipo di danno subiscono i vampiri dai proiettili ad espansione cosa sono i proiettili ad espansione mi coglie in fallo proiettili dovrebbero essere tipo proiettili dalla SWAT o quelli per mettere fuori allora sono un tipo di proiettili progettati per espandersi all'interno del corpo in bersaglia aumentando così la gravità delle ferite ah no allora no non hanno nessun effetto aggiuntivo al vampiro sono comunque danni contundenti lì di mezza perché che gli aprono più ferite cioè aprono si dividano a lui non gli cambia nulla ricordo che i proiettili sono danni cioè sono considerabili al pari dei danni contundenti quindi dimezzabili perché a meno di calibri molto grossi non staccano pezzi dal vampiro come invece fanno macetti spade o cose simili per esempio è molto più facile vedere in vampire comunque vampiri che vanno in giro con spade asce robe del genere perché non per una questione che sono nostalgici dei tempi antichi ma per il fatto che sono molto più efficaci perché un corpo morto fa molta più resistenza ai danni e subisce molto di meno i danni li percepiscono anche meno proprio loro i danni quindi se ne preoccupano molto meno i proiettili al fosforo fanno molto male i vampiri Alessandro Greco nel sabbat ti seppelliscono sotto terra dopo averti abbracciato nella camarilla ti istruiscono negli indipendenti è molto più vicino alla camarilla come metodo quindi ti istruiscono nel senso la differenza è che nella camarilla ti istruiscono nelle nelle tradizioni le sette tradizioni della camarilla tra gli indipendenti semplicemente ti insegnano a vivere ma in realtà dipende molto da indipendente a indipendente hanno ogni ogni clan indipendente allora gli anarchici probabilmente facciamo la distinzione gli anarchici probabilmente ti insegnano semplicemente a vivere gli indipendenti hanno ognuno le loro particolari tradizioni che non conosco ma immagino che i seguaci di sette o i giovanni abbiano delle tradizioni molto particolari per giocare come cacciatori di vampiri come si deve fare ci dovrebbe essere apposta un manuale cioè cosa sono in realtà i cacciatori di vampiri allora dipende dalla tipologia di cacciatore di vampiri che sei allora sono principalmente due una sei un pirla nel senso sei un essere umano normale è entrato in contatto con i vampiri pensa che i vampiri esistano e più o meno li combatte probabilmente ha un fucile a pompa probabilmente 95% delle volte non avrà vera fede però si è imposto quella missione esempio Supernatural ottimo esempio di cacciatore probabilmente magari man mano facendosi con un po' di fortuna l'esperienza per uccidere i vampiri sa proprio anche combatterli i cacciatori di vampiri invece quelli di serie A sono i cacciatori di vampiri dell'inquisizione della cattolica loro sono addestrate appositamente loro sanno esattamente sanno dell'esistenza dei vampiri sanno come combatterli e la percentuale di cacciatori di vampiri con vera fede tra tra quell'organizzazione è molto più elevata questa è la vera distinzione come si fanno giocare ci dovrebbe essere appositamente un manuale se non sbaglio ma comunque potresti appunto prendere spunto da Supernatural i fratelli Winchester sembra Alessandro Greco siamo già a un'ora ragazzi mamma mia nel sabbat no aspetta è la stessa domanda allora non rispondo Ertussi Master com'è possibile che si siano creati i differenti clan e le varie linee di sangue mi spiego cos'è successo per fare in modo che i vampiri si siano differenziati così tanto nelle discipline visto che chi più chi meno tutti sono figli di Caino ragazzi Ertussi non lo so nel senso una di quelle cose che non lo so non so neanche se viene mai spiegata o semplicemente viene dato per scontato che gli antediluviani erano talmente potenti che potevano praticamente sviluppare il loro sangue in nuove discipline cosa che in effetti Lilith insegnò a Caino Lilith insegnò a Caino a usare il proprio sangue per le discipline è probabile che gli antediluviani hanno fatto la stessa cosa hanno praticamente si può pensare condotto degli studi portato al limite i propri poteri e sviluppato delle proprie tradizioni di uso di discipline che poi sono state tenute preziosamente segrete però non viene spiegato chiaramente per quanto ne so io cosa succede alla creatura umana vampira eccetera eccetera dopo che è passato il tempo di durata di una disciplina mentale prendiamo l'esempio del capo della polizia che è diventato amicissimo di Robin che succede si ricorderà che era suo amicissimo avrà un vago sentore ma sarà quasi come risvegliarsi da un sogno sarà cosciente di quello che è successo quindi nel caso del capo della polizia si ricorderà oh mio dio ma hanno ammazzato un tizio davanti a me se lo ricorderà ritornerà cosciente e come reagirà del fatto che prima che gli facesse la disciplina penso io stava indagando su di lui probabilmente riprenderà a indagare però è inutile parlare adesso perché è un possibile sviluppo dell'avventura oh un altro esempio quel cacciatore con vera fede a cui Quitte ha installato la paura delle armi da fuoco se non fosse morto si sarebbe chiesto il perché aveva paura cioè vorrei sapere sapere ci sono risvolti che porta che porta all'esaurimento di queste discipline allora no in realtà no praticamente diventa una parte di te la disciplina instilla una cosa che diventa parte di te finché non si esaurisce il potere e tu nella tua psicosi comunque non te ne rendi ben conto pensi che sia una cosa naturale che per esempio quel cacciatore ha avuto improvvisamente paura di sparare di sparare a un'altra creatura anche se era un mostro quindi no le discipline mentali non ti rendono cosciente ben cosciente di quello che sta succedendo finché non si esauriscono e ultima domanda e visto che ne parli quali sono le differenze più sostanziali tra cartaceo e live cartaceo si tirano i dadi live non si tirano i dadi live bisogna interpretare il proprio personaggio quindi parlare con la voce del proprio personaggio non raccontare se non nei casi in cui si fanno cose che non si possono mimare nel senso guarda sto salendo su un elicottero quel genere di cose se no devi sempre interpretare il personaggio non si tirano dadi e dipende da live a live sono diversi sono gestite in modo diverso le discipline sistema di combattimento alcuni usano i turni alcuni vanno all'ARP quindi alcuni usano i turni e dichiarano danni altri invece tipo vanno all'ARP appunto spade in lattice e si combatte veramente si deve colpire veramente l'avversario dipende molto da live a live Hawk Grinder se il livello di criminalità si alza dove c'è il sabbat allora il Bronx è completamente infestato New York è un caposaldo del sabbat non a caso Marco Tosoni narratore ho trovato in un negozio il manuale changeling i perduti della White Wolf gli ho dato un'occhiata letto le prime pagine e mi ha fatto abbastanza cagare non so cosa tu ne pensi dei fatati ma per me non c'è confronto con Vampire dei Masquerade allora non tutti i prodotti della White Wolf piacciono possono piacere changeling io per esempio non l'ho letto molti mi parlano bene di Mage che è sempre della White Wolf e parla soprattutto dei maghi ma a me non mi convince molto a me della White Wolf piace molto Vampire dei Masquerade per come viene trattato il tema del vampiro changeling non l'ho mai letto e non è detto che tutti i manuali della White Wolf siano perfetti belli e presi ricordo inoltre che la White Wolf comunque ha avuto non è stata sviluppata sempre dalle stesse persone quindi alcune cose hanno iniziato nei manuali magari a entrare in conflitto o a non essere allo stesso livello questo è il problema quando a differenza di lo so ragazzi ogni volta lo cito sine requie ci sono sempre gli stessi due autori a realizzare il manuale quindi a rendere sempre coerente l'ambientazione coerente quello che si scrive purtroppo così non è stato nella White Wolf ogni dia anche quindi non erano sempre gli stessi autori quindi alcune volte il livello non era uguale o le idee non erano altrettanto buone del Mattia 96 mi chiedevo la storia di Vampire dici che Malcavian e Ventrus spinsero contro il Brugia di Cartagine ma da membri del senato o attraverso il loro goal e i contatti perché il caro vecchio catone sarebbe stato un Ventru perfetto o se andiamo più vicino nella storia beh William Wallace sarebbe stato un Brugia perfetto cioè spiegherebbe anche il fatto che lo abbiano decapitato dopo averlo già impiccato ed eviscerato diamine i vampiri sono tra noi tirate fuori le asce bipenni allora del Mattia non te lo so dire nel senso non continuo a ripetere in questo cavolo di V-Blog non ho potuto leggere nessuno dei tre dei tre clan book quindi non ho informazioni ulteriori so solo che vennero spinti se alcuni vampiri erano senatori possibili usavano goal al loro posto altrettanto possibile quindi non lo so William Wallace Brugia però ci sta da dio tutta che potremmo combattere solo di notte allora Leorgrium narratori in questo V-Blog hai spiegato che il vampiro diabolizzando un vampiro anziano prende alcuni poteri del sangue per un tempo limitato ora la domanda è ma un vampiro può prendere discipline di altri clan che non fanno parte del proprio esempio taumaturgia un Brugia tecnicamente potrebbe svilupparlo temporaneamente anche discipline che non conosce poi che le sappia capisca come sfruttarlo o meno quella è tutta un'altra storia sarebbe molto interessante da giocare il movimento anarchico non ha gerarchia all'interno del gruppo per quanto ne so io c'è solo il barone è il capo a cui ci si rivolge il capo tra gli anarchici a cui ci si rivolge ma più che un capo che comanda è diciamo colui che il più saggio il più esperto tra gli anarchici la guida è più una guida che un reale capo come potrebbe essere appunto il principe nella camarilla sentendo la sessione di Bumper che state facendo ho menzionato un barone anarchico quindi presumo che i vampiri anarchici abbiano una sorta di piccola leadership per quanto ne so io esiste solo il barone poi ovviamente magari ci saranno cariche sotto minori ma in realtà rilevante tra gli anarchici c'è solo il barone che è questa specie di guida si può dire che un vampiro anarchico è un vampiro indipendente sinonimo? assolutamente no è sbagliato perché il vampiro indipendente per vampiro indipendente si intende un vampiro dei clan indipendenti Assamita seguaci di Seth Giovanni principalmente questi tre si intendono vampiri e Ravnos si intendono vampiri che vengono da questi clan sono gli indipendenti gli anarchici sono anarchici sono di altri clan che però sono scappati via praticamente vogliono fare per conto loro De Mattia 96 domandina ma cosa accadrebbe se io somministrassi un anticoagulante ad un vampiro il fatto che il sangue di un vampiro più anziano sia più coagulato indica che l'essere il sangue più liquido no che l'essere il sangue più liquido è simbolo di meno forza De Mattia hai scritto malissimo se fosse così basterebbe fare in questo modo per inebolirlo sbaglio? lo so è fantascienza ti faccio notare una cosa il vampiro non ha circolazione quindi tu inietti un anticoagulante che rimane fermo l'unico momento in cui c'è circolazione in un vampiro è quando si nutre perché immette il sangue che gli errora il suo corpo e se come caso limite quando utilizza i punti di sangue per potenziarsi gli attributi fisici quando usa gli attributi fisici o per curarsi perché il sangue inizia a circolare in quel momento spinto dalla volontà del vampiro ma in realtà se no un anticoagulante non avrebbe senso magari potrebbe potrebbe indebolire indebolire momentaneamente il vampiro ma devi aspettare che quel vampiro inizia a usare il suo sangue per iniziare a trasmettere il tutto se no l'anticoagulante non fa effetto io di base non credo che avrebbe molto successo tonno pasqua quanto siamo ragazzi in un'ora diciassette ma da una però ci siamo quasi ci siamo quasi non ho ben capito il quarto pallino della disciplina temporis nascondiglio il vampiro che ha raggiunto questo livello di temporis è in grado di auto rimuoversi dal corso del tempo muoversi al di fuori di esso nella maniera che ritiene più fortuna e tornare poi nel normale corso temporale nello stesso momento in cui ne era uscito quindi cosa succede dopo l'attivizzazione della disciplina è per intenderci come l'incantesimo di Dendee fermare il tempo no è facilmente scritto che è in grado di auto rimuoversi dal corso del tempo muoversi al di fuori di esso nella maniera che ritiene più fortuna quindi praticamente è come se tu fermassi momentaneamente il tempo e ti muovi poi però devi tornare esattamente nello stesso punto per far ricominciare tutto è questo che mi pare di capire però c'è da dire anche una cosa tu sei andato a leggerti temporis che non dovresti averla nessun vampiro giocatore dovrebbe averla e è una di quelle cose che mi dà fastidio nel senso quelle sono cose per i master ragazzi è meglio che vengano lasciate ai master ps per quanto riguarda il discorso sulla pronuncia della parola vitae la pronuncia corretta è vite in quanto viene dalla dicitura latina sanguis vitae cioè il sangue della vita ma c'è stato detto prima che anche vitae si può dire nella versione ecclesiastica yeah teo paga master ma un vampiro se viene impalettato al cuore va a intorpore ma questo vale solo con un paletto oppure anche con qualcos'altro il paletto è uno strumento realizzato apposta per rifilzarsi ma tecnicamente qualsiasi cosa una spada la gabba di un tavolo è un paletto rudimentale un rompighiaccio non so se abbastanza spesso ma potrebbe funzionare il paletto può essere sostituito da qualsiasi oggetto che possa abbastanza puntito che possa perforare la cassa toracica del vampiro e diciamo spaccargli il cuore Ulisso di Seo uno è sensato per un toreador appassionato di lotta come uno schermidore per un toreador appassionato di lotta come uno schermidore bloccarsi di fronte a uno stile di combattimento perfetto ad esempio con un monocod un ulitorizzatore di armi bianche molto abile se quello è il motivo per cui va in estesi il toreador assolutamente sì è un modo per avere un toreador diverso dal classico arte normale 2 se un gol animale consuma tutta la vita vampirica che ha in corpo torna alle dimensioni normali inizia man mano a sentirne un maggiore bisogno ma non ci muore e tecnicamente no rimane comunque dimensioni più grosse semplicemente perderà l'utilizzo delle discipline ma le dimensioni che ha raggiunto dovrebbero rimanergli 3 se un vampiro si nutre del servo goal di un'altra kainita rischia di subire un legame di sangue con quest'ultimo vampiro spero di essermi spiegato bene no perché nel goal c'è c'è un rapporto 1 a 10 di sangue tra il sangue umano e il sangue del goal suo mortale e il sangue del vampiro 2 a 10 forse rimane il fatto che è troppo poco per creare un legame di sangue per quanto per quanto io lo ceccherei e poi magari vengo smettito Alessio Ballerini narratore esistono vampiri bambino cioè vampiri con l'aspetto di un bambino di 10 o 12 anni sì esistono ma ripeto che il vampiro viene cristallizzato quindi tecnicamente ha anche la mente di un bambino di 10 anni quindi per quanto può crescere rimarrà un bambino di 10 anni ovviamente si possono abbracciare di qualsiasi età si può abbracciare anche un 90 anni c'è proprio il difetto per farlo mi sembra Kageisa domanda troppo P dominio ascendenza e demenza a parer mio hanno una durata troppo lunga ma i vampiri non dovrebbero avere più resistenza rispetto ai semplici umani e quindi se subiscono di questi subire molto meno allora no nel senso i vampiri hanno i poteri hanno la forza di volontà e possono capire se resistono che stanno subendo un potere mentale e perché sono vampiri e sanno che esistono queste cose mentre un mortale probabilmente non si opporrebbe neanche non capirebbe cioè si lascerebbe colpire e basta esempio i cacciatori nella avventura che ho fatto solo i cacciatori hanno provato a resistere ai poteri mentali ma perché loro erano stati cioè conoscevano i vampiri quindi avevano più o meno delle idee di cosa potessero fare i vampiri e comunque si sono molto più dominio ascendente e demenza sono veramente potenti infatti consiglio di ridurre la durata cioè praticamente far scalare tutta la durata almeno di una di una categoria cioè se la cosa più con sei successi parliamo di demenza 1 è un anno il massimo diventano tipo sei tre mesi una roba del genere scala praticamente a scalare Red Robin 36 Master ma i membri del Sambat come vivono all'interno della società umana nel senso hanno magari un lavoro come un tassista un buttafuori o sono per la maggior parte criminali è molto più probabile che siano criminali ma in realtà comunque tendono ad avere dei lavori ovviamente non dove servono i mortali ma lavori dove comunque controllano magari dei mortali per guadagnare quello che gli serve per ottenere quello che magari gli serve ma non potrebbero ottenere con la mera forza o forse loro non servono affatto i soldi e vivono abusivamente in rifugi comuni e rubano la benzina e i loro mezzi è molto più probabile questo in sabbat non si fa problemi ruba ovviamente non tutti i membri del sabbat sono così la sombra zimisce ventru anti tribù nonostante siano nel sabbat sono non vogliono cadere così in basso quindi magari controllano delle pedine mortali hanno delle dei modi per riottenere soldi quindi dipende molto diciamo che la truppaia del sabbat è molto più probabile che con la forza prenda quello che gli serve red robin 36 non so se ti hanno già fatto questa domanda ma per esempio ma se per esempio un vampiro abbracciasse un uomo che sta morendo di ads o un'altra malattia mortale magari per salvarlo perché era suo amico che effetto avrebbe sul canita se viene abbracciato in un momento in cui era molto debole potrebbe essere per l'eternità debole avere dei piccoli problemi è un problema può essere debolezza esiste proprio come difetto di clan cioè il difetto proprio nel manuale essere debole avere dei problemi proprio grossi problemi essere malato e magari trasmette anche la tua malattia King Leonida madonna siamo 1 e 24 narratore ciao senti ho due domande senza ho senza l'h King la prossima volta giuro che non te la leggo perché ho senza l'h uno vampiro può tornare umano se si come Golconda l'unico modo è la Golconda cercare ma neanche Golconda in realtà non è che torna umano semplicemente raggiunge viene perdonato ma non torna propriamente umano tipo le maledizioni di Caino vengono eliminate progressivamente ma non tornerà mai umano anche perché è morto l'unico che torna umano sono i i Chazid i Kazid o come si dice cavolo si dice che sono dei vampiri mezzi fatati che a un certo livello della disciplina della loro disciplina possono annullare temporaneamente la maledizione di Caino e tornare umani 2 in una giocata è possibile cambiare il background di Vampire insomma cambiare per esempio i rapporti tra alcuni clan tipo i Tremel vengono rispettati maggiormente dalla Camarilla per fatto che succede in game allora ovviamente le azioni possono cambiare i rapporti tra clan possono peggiorarli come migliorarli sta tutto in mano al narratore alla storia e alla gestione dei personaggi diciamo che hai di base le relazioni tra i vari clan i rapporti come come si si leggono i rapporti poi puoi sviluppare possono peggiorare o migliorare quello però sta al gioco Red Robin 36 come la vedresti un brugia sabbatita di natura entusiasta che tenta di ricalcare l'antico stile dei brugia guerrieri poeti componendo odi di trionfo sulla Camarilla e sul finale dominio dei cainiti sulle vacche allora prima di tutto un brugia sabbatita difficilmente rievoca quello secondo i brugia erano filosofi studiosi poeti meno erano proprio filosofi studiosi grandi intellettuali non poeti un po' sbagliato forse l'ho detto mi è scappato addirittura a me a me in qualche altro vblog qualche passato vblog è sbagliato cioè più guerrieri filosofi guerrieri studiosi e quindi no ti dico di no red rovin per me è no per me no ed è bocciato quante ne mancano oh sono le ultime due guarda il narratore che secondo il manuale del narratore c'è scritto che l'infante di brugia ha diablerizzato brugia stesso così si dice ma in realtà io so che in realtà brugia si è sottratto alla diablerizzazione usando temporis anche perché ricordo che blocchi il tempo quindi ti sto diablerizzando e non sono più lì e contemporis è andato nel futuro quindi attenzione narratore ma perché non dai a Nauks la possibilità di avere contatti di strada come li ha Rick perché non ha aspetta finisco di leggere di leggere perché in teoria sono inosferato ad avere contatti informazioni ma se hai una spiegazione sono curioso comunque perché non colleghi vampire con ars magica nel senso che nel manuale base di ars magica un tipo di mago giocabile che nel manuale di ars magica c'è un tipo di mago giocabile quindi mi chiedevo perché non collegare perché è una puttanata senza offesa eh ma non maghi insieme ai vampiri è una di quelle forzature che non mi piace o faccio i maghi o faccio i vampiri non tutte non insieme grazie dell'attenzione e se vuoi una mano io ho un po' di manuale posso passarti delle informazioni se ti interessa grazie ma non ho bisogno ho semplicemente bisogno di tempo per recuperare i manuali man mano leggermi e comunque no non metterai mai ars magica con vampire insieme non mi piace proprio a me personalmente come possibilità di interazione un manuale con l'altro e poi Nauks ok non sperai tu di solito hanno quello ok ma Nauks ha pochi contatti e per il suo personaggio non ha contatti di strada perché perché Hamilton ce lo vede ad avere contatti di strada no ed è sensato quindi non ce li ha perché dovrebbe avere contatti che non è sensato che il suo personaggio abbia sviluppato esattamente torniamo a quello che dicevamo prima sui contatti Jamie un contatto universitario perché dovrebbe averlo non è sensato quindi non ce l'ha Yem le Yem 1 a 23 narratore domanda se un uovo con la dentiera diviene vampiro diviene vampiro come succhia il sangue se un uovo con la dentiera diviene vampiro come succhia il sangue diventa cedere per la sfiga e perché gli altri vampiri gli riderebbero ti ricordo ti ricordo che avere i denti serve solo per dare il bacio questo vecchietto con la dentiera secondo me è talmente incazzato alla vita che andrà in giro con un macete farà pezzi la vigente e strizzerà gli arti bevendolo bevendo il sangue non ha bisogno dei denti spremuta non ha bisogno purtroppo non potrà trovare il bacio difficilmente sarà nella camarilla ma chi se ne frega è incazzato con la vita e il mondo per un personaggio del genere comunque ragazzi questa era l'ultima domanda diciamo più o meno domanda siamo arrivati a 1 ora e 31 quindi io lo concluderò subito sono contento delle mille domande purtroppo ad alcuni non riesco a rispondere perché volete subito andare nelle cose particolari e ricordo che io non ho letto tutti i manuali sono veramente tanti quelli di vampire quindi attenzione ad andare a chiedermi cose troppo nello specifico perché rischiate che io non possa rispondermi purtroppo ma per il resto spero di essere stato utile spero di aver risposto a diversi vostri dubbi ricordo io non sono un espertone di vampire di tutto il mondo di vampire lo conosco ma non sono esperto di tutte le sue sfaccettature quindi se ho detto castronate mi dispiace se ho sbagliato cose correggerò detto questo noi ci vediamo al prossimo vi blog spero che questo vi blog vi sia piaciuto fatemelo sapere vediamo se raggiungevamo almeno i 20 mi piace per il tutorial di vampire di masquerade qualcuno di voi lo scriva vogliamo il tutorial di vampire di masquerade e vediamo se raggiungiamo almeno raggiungete almeno i 20 mi piace e allora vincerete voi e io farò il tutorial per voi noi ci vediamo al prossimo vi blog spero che ci siano tante domande come questo giro e spero che riesca a rispondere di nuovo a gran parte di esse noi ci vediamo al prossimo vi blog ciao a tutti bagai